Cari amici di Democrazia Sovrana e Popolare, buona domenica. Questo è l'ultimo messaggio che pubblico prima delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. Come saprete Democrazia Sovrana e Popolare è presente nella circoscrizione centro, per cui questo mio messaggio è rivolto principalmente, ma non solo, ai cittadini che abitano nelle regioni Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Democrazia Sovrana e Popolare è l'unica forza politica in grado di contrastare con forza, liberamente e con grande precisione, questo sistema globalista impazzito. Stiamo vivendo un momento storico molto difficile, molto particolare. Io credo che molti cittadini non comprendano fino in fondo quale sia la vera posta in gioco. La guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma sarebbe meglio dire la guerra tra la Russia e la Nato, rischia di far ritornare nel vecchio continente immagini, sensazioni, momenti che pensavamo superati per sempre. Tutto questo, credi amici, non avviene sulla base di una contingenza occasionale. Il mainstream prova a convincerci del fatto che un uomo particolarmente cattivo e desideroso di accentrare potere, Vladimir Putin, abbia improvvisamente deciso di aggredire un Paese sovrano senza ragione alcuna. Questa storia è assolutamente falsa, questo racconto è grossolano, mistificatorio, e punta a convincere parte della popolazione sulla bontà dell'operato dei Paesi occidentali sulla base di una palese menzogna, di una bugia che ripetuta all'infinito pretende di farsi verità. In realtà questo mondo è in crisi, questo nostro sistema globale è in crisi perché ha fallito, perché non ha funzionato, perché all'indomani della caduta del muro di Berlino in tanti pensavano che il sistema occidentale avrebbe pacificato il mondo intorno ai valori di libertà, progresso, benessere per tutti. Non solo questo non è avvenuto, non solo la situazione delle classi medie e proletarie nei Paesi occidentali è radicalmente peggiorata rispetto a 20 o 30 anni fa, ma adesso quell'Occidente che si riempiva la bocca di pace e diritti umani mostra il suo volto più feroce, mostra il suo volto più cattivo e cinico. Lo mostra nelle tendopoli di Rafa così come lo mostra nel Donbass. L'Occidente non è più la soluzione dei problemi, l'Occidente è il problema, è la punta più avanzata di un impazzimento collettivo che rievoca e riattualizza i fantasmi più drammatici che hanno attraversato l'Europa e il mondo nel Novecento. Nei confronti di questa situazione noi possiamo provare a far vincere le ragioni della diplomazia, le ragioni della politica, le ragioni del buonsenso. Noi dobbiamo provare a combattere a mani nude, senza strumenti finanziari, senza strumenti mediatici, senza l'aiuto di apparati di nessun livello. Noi possiamo farci scudo soltanto della verità, del buonsenso delle nostre proposte e dobbiamo sperare che questa buona parola, che si incarna dentro il corpo vivo di un partito solido che dal Trentino alla Sicilia cresce e si ramifica, dobbiamo pensare che la forza della nostra parola susciti nel cuore delle persone sane che ci ascoltano un desiderio di reagire, di rispondere di fronte a questo impazzimento collettivo tramite l'impegno pubblico e politico. A pensarci bene, cari amici, non abbiamo alternative, non possiamo fare altro se non provare a convincere ogni giorno, faticosamente, lentamente, ogni singola persona in tutto il territorio nazionale circa l'importanza di costruire un pensiero divergente rispetto a quello oggi dominante che rimetta al centro parole oggi archiviate e accantonate, a partire dal rispetto dell'altro, dal rispetto della sovranità altrui. I Paesi che hanno sbenduto la libertà interna, il diritto all'autodeterminazione, non tollerano Paesi che invece quel diritto non vogliono sbenderlo, non vogliono delegarlo ad altri. In questa sintesi è racchiuso l'odio dei globalisti nei confronti della Russia di Putin, pronta a combattere fino in fondo, pronta a rischiare persino di affrontare una catastrofe nucleare, pur di non sciogliersi nell'indistinto, opaco e melmoso, caro ai liberisti e globalisti. Noi dobbiamo essere quella voce forte, quella voce risoluta, quella voce chiara che smuove le coscienze, che tocca corde profonde, che chiama all'impegno diretto cittadini ancora annoiati, stanchi, convinti di vivere ancora dentro il vecchio teatrino della politica politicante. Ma cari amici, quel tempo è finito. Il tempo di una politica che si occupa di questioni poco rilevanti, a cavallo, tra il gossip e il chiacchiericcio, non c'è più. I problemi che abbiamo oggi di fronte sono seri, meritano risposte serie e adeguate, non è più tempo di nani, ballerini, pagliacci e pupazzi, è tempo di uomini con la testa sulle spalle. Chiari nel capire le priorità, precisi nel difendere l'interesse nazionale, forti nel perseguire politiche all'insegna dell'interesse nazionale, in grado di sfidare la furia, la violenza e le minacce di questo sistema sovranazionale, palesemente impazzito. Avete visto, cari amici, come i globalisti intendano risolvere i problemi. Quando non ci riescono, per il tramite della propaganda comunicativa e mediatica, azionano il più delle volte i cosiddetti poteri profondi, i servizi di intelligence che armano qualche PM di turno. Avete visto la fine che ha fatto, ad esempio, Donald Trump, recentemente condannato per una vicenda surreale. Ma quando non basta neanche l'accanimento mediatico che stimola la persecuzione giudiziaria, questi globalisti non si fanno scrupoli nel ricorrere direttamente all'omicidio politico. Il caso del premio slovacco Fizzo, al quale rinnoviamo i più autentici e sinceri sentimenti di solidarietà e di amicizia, in questo caso è emblematico. Noi non vogliamo vivere in un Paese governato da logiche mafiosi. Non assisteremo passivamente alla trasformazione dell'Occidente in una immensa cosca di mafia che vive di ricatti, minacce, mezze parole e tentativi di eliminazione dell'avversario politico. Noi cercheremo, fino all'ultimo, di difendere la rispettabilità del nostro Paese e dell'Occidente tutto. Oggi messi in discussione non da fantomatici nemici creati ad arte da una stampa corrotta, ma dalle stesse classi dirigenti interne, non legittimate sul piano democratico, che esercitano un potere dittatoriale alle spalle e sulla pelle di cittadini manipolati, raggirati e utilizzati all'occorrenza come carne da cannone. La risposta civile, democratica, forte rispetto alla situazione che vi ho delineato esiste e si chiama democrazia sovrana e popolare. Invito tutti gli amici delle regioni del centro a votarci convintamente, anche se le possibilità di esprimere una rappresentanza parlamentare sono vicine allo zero, considerata la nostra presenza esclusiva nelle soli regioni della circoscrizione che riguarda Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Ma un buon risultato di democrazia sovrana e popolare darà il segno che qualcosa nel Paese si muove, che non tutte le anime sono state svuotate e raggirate da questo malefico stregone che parla per il tramite di media collusi, che non tutti si sono arresi, che esistono ancora uomini, metti, cuori, pronti a combattere all'unisono nel nome di una battaglia collettiva che si rifà i valori di giustizia, di libertà, di verità, di rispetto di se stessi e quindi di rispetto dell'altro. L'8 e il 9 giugno si combatte una battaglia democratica decisiva per il futuro del nostro Paese, per il futuro dell'Europa e per il futuro del mondo intero. Vi lascio con una promessa, faremo sempre, ogni giorno, costantemente, il nostro dovere. Cercheremo di servire con la massima lealtà le aspettative delle persone che si rivolgono a noi nel pieno e totale convincimento di fare la cosa giusta. Non c'è nulla ai nostri occhi che valga più della stima, del rispetto, della fiducia che i nostri elettori, i nostri militanti, i nostri simpatizzanti ogni giorno ci riconoscono. Questa è la nostra priorità, questo è il nostro interesse. Difendere l'Italia per difendere la costruzione di un mondo migliore, per ritornare a vivere atmosfere di pace, di libertà e di benessere, archiviando per sempre la pessima e velenosa stagione appaltata alla guida folle di atlantisti, globalisti e neocon assetati di sangue e nemici della verità. Grazie. 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 Grazie.